Fano torna a rivivere l'epoca romana grazie al ritorno della Fanum Fortuna e la Fano dei Cesari. Per via del Covid neanche quest'anno vedremo la corsa delle bighe nella sfilata delle fazioni per il circuito del Pincio. Per questo l'assessorato al turismo del comune di Fano insieme alla colonia Giulia Fanestris, all'associazione Simachia e le Nonne e la collaborazione della Proloco hanno organizzato per il 7-8 agosto due giorni dedicati alla promozione dell'evento, corte malattestiana e piazza 20 settembre, gli scenari coinvolti. Troveremo delle interessanti didattiche e momenti di vita della Fano Fortuna di 2.000 anni fa. Il nostro gruppo, l'associazione culturale colonia Giulia Fanestris, insieme al gruppo Simachia e Lenon, sempre di Fano che fa rivocazione greco-cartaginese e con il coordinamento della Proloco di Fano animiamo questi due giorni, dalle 18 del pomeriggio fino a tarda sera, quindi alle 24, e illustreremo quello che era il modo di vivere di 2.000 anni fa a Roma e nell'eventico comunque. Insomma, nei due giorni la città di Fano verrà catapultata indietro di 2.000 anni. Insieme al gruppo Simachia e Lenon faremo delle interessanti didattiche sulla parte militare e usciremo anche dalla corte per poi effettuare, questo lascerà sorpresa per quei giorni, delle manovre all'interno del centro storico e in particolare nella piazza 20 settembre. Per questa edizione, aggiunto invece l'assessore Lucarelli, abbiamo fatto leva sulla connotazione storica e culturale di quell'epoca, dando anche la possibilità ai cittadini e ai turisti di visitare il museo. Insieme a tutte le associazioni che organizzano Fano un Fortuna realizzeremo questi due giorni di richiamo alla romanità con degli allestimenti, delle ricostruzioni che saranno all'interno della corte e che ci accompagneranno anche all'interno del museo archeologico per vivere a pieno la romanità della nostra città. 7-8 agosto 2021, piazza 20 settembre, Corte Malatestiana.